Ciao a tutti, come programmare l'inconscio? In questo video voglio spiegarti come puoi programmare il tuo inconscio. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra, diciamo, di farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E veniamo adesso al tema come programmare l'inconscio. Noi abbiamo la possibilità, ad esempio, attraverso le tecniche della programmazione neurolinguistica di programmare, modellare il nostro inconscio. E quindi, diciamo, la credenza di base di tutto questo è che se una persona può capire come un'altra persona sta facendo un'attività o sta facendo qualcosa, noi possiamo copiare, per virgolette, modellare il processo e programmarci a fare, a raggiungere anche la stessa cosa. Comprendere, diciamo, come una persona agisce è fondamentale per poterla modellare. Ci sono diversi livelli di apprendimento che noi possiamo utilizzare. Il primo livello, diciamo, è un livello legato a una spiritualità, è la partecipazione a qualcosa di più grande, è qualcosa che ci permette un cambiamento più alto. Poi scendendo abbiamo l'identità che ci permette di includere, diciamo, svolgere dei ruoli nella nostra vita. Possiamo cambiare le credenze e i valori per facilitare il cambiamento, modificare le nostre abilità, i nostri comportamenti e anche il nostro ambiente da un certo punto di vista. Quindi ogni livello logico deve organizzare le azioni sottostanti. Alla base di tutto c'è il pensiero. La maggior parte dei nostri pensieri, dei nostri comportamenti, però non sono coscienti, derivano dall'inconscio. Quindi è molto importante imparare a dialogare con la nostra mente inconscia, con la nostra mente nascosta per sviluppare nuovi pensieri. Quindi dobbiamo imparare a rafforzare la fiducia in sé, migliorare la comunicazione e cambiare e modificare dei cambiamenti obsoleti fondamentalmente. Questo è molto importante. La programmazione neurolinguistica fornisce dei metodi utili per migliorare le nostre capacità di leadership, migliorare i nostri approcci, migliorare la comunicazione, soprattutto eliminare le emozioni negative, come ad esempio la rabbia, migliorare i rapporti interpersonali, sviluppare efficaci metodi per raggiungere il successo. Quindi questo è molto importante. Come possiamo fare questo? Dobbiamo addestrarci, diciamo, è una sorta di addestramento per migliorare la comunicazione fondamentalmente, sia con le persone, ma soprattutto con noi stessi. Questo è fondamentale. Dobbiamo tenere presente che per fare questo dobbiamo entrare in contatto con il nostro inconscio, il nostro inconscio è quella parte della nostra mente, diciamo, che da un certo punto di vista sfugge all'attenzione della nostra mente, ma è quella parte dove c'è l'energia, dove c'è il serbatoio di energia, che noi possiamo utilizzare per raggiungere i risultati che vogliamo raggiungere. Soprattutto è molto importante creare un'alleanza tra la sfera logico-razionale e la sfera emotiva, perché soltanto attraverso un'alleanza tra sfera logica e sfera emotiva noi potremo raggiungere dei risultati molto molto interessanti. Attraverso delle tecniche noi possiamo iniziare a comunicare con la nostra parte emotiva, perché la nostra parte emotiva è quella che ha le risorse, a differenza di quella logica che dovrebbe avere, diciamo, definire gli obiettivi, quindi la parte logica deve definire gli obiettivi. E una volta che abbiamo definito gli obiettivi, dobbiamo automotivarci a raggiungere quegli obiettivi utilizzando il potere del nostro inconscio. Quindi qua, come facciamo a raggiungere, a far sì che la nostra parte emotiva sia nostra alleata? Bene, dobbiamo tenere presente che la nostra sfera emotiva vive e si nutre di emozioni. Se non riusciamo a dare emozioni, noi riusciamo a superare, a raggiungere gli obiettivi che vogliamo dare. Quindi dobbiamo prima dare un'indicazione alla nostra parte emotiva di quello che vogliamo e per questo possiamo utilizzare la visualizzazione creativa, cioè visualizzarci che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, la nostra capacità, perché potrebbe essere una capacità, quella di comunicare meglio, quella di visualizzare come vogliamo diventare. Possiamo anche visualizzare le persone che già stanno facendo quello come lo fanno, perché noi dobbiamo dare indicazioni al nostro inconscio. Una volta che abbiamo dato le indicazioni al nostro inconscio su come fare, su come raggiungere, diciamo, il successo, diciamo, dobbiamo renderci conto che a questo punto dobbiamo far sì che la nostra parte emotiva vada a darci, diciamo, il supporto giusto. Per cui dobbiamo iniziare a dare degli spuntini emotivi, fare ogni giorno qualcosa che ci dia emozione. Se ogni giorno facciamo, diciamo, se ogni giorno facciamo delle cose che ci danno delle emozioni, praticamente la nostra parte emotiva capirà che ha un alleato nella parte logica e aiuterà la parte logica a raggiungere i suoi obiettivi. Come fa ad aiutare la parte logica a raggiungere i suoi obiettivi? Beh, semplicemente gli abbiamo dato il modo di, come dire, gli abbiamo dato il modo di imparare a fare, diciamo, quello che vogliamo che faccia, perché gli abbiamo dato le istruzioni fondamentalmente. Quindi a questo punto basta che la parte emotiva sa quello che noi vogliamo raggiungere e il tutto avverrà automaticamente. Qui avverrà la grande magia che noi riusciremo a ottenere questi risultati, a diventare come vorremmo diventare, senza che neanche ci rendiamo conto effettivamente di come abbiamo fatto, perché la nostra sfera emotiva ci proietterà su questa situazione, ci permetterà di raggiungere tranquillamente questo risultato. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, clicchi sul tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni appunto l'abbonamento. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!